Un momento di festa per celebrare i riconoscimenti sia a livello regionale che a livello nazionale ottenuti dal progetto Stasera Cucino Io. Un successo per questo percorso che ha visto protagonista Coldiretti insieme ai ragazzi di Arezzo Autismo. Abbiamo vinto con questo progetto l'Oscar Green a livello regionale e nazionale. L'Oscar Green è praticamente un premio che viene fatto da Coldiretti per premiare le idee e i progetti più importanti che riguardano il settore giovanile. Quindi un momento di festa anche perché questi ragazzi sono impegnati tanto, hanno lavorato tanto in questo progetto e penso hanno anche raggiunto dei buoni risultati a livello anche di consapevolezza del cibo che stavano preparando. Questo progetto con Coldiretti ci ha dato l'occasione di tanto coinvolgere due chef importanti come Shadi e altri e poi però questo picco nato come un piccolo percorso si è trasformato in un vero laboratorio di abilità e di conoscenza del cibo e della cucina. Le competenze acquisite potranno anche essere spese in ambito professionale? Durante questo progetto abbiamo deciso di fargli conseguire anche il primo livello di HCCP in modo che chi di loro volesse può comunque inserirsi in un progetto di lavoro. Siamo riusciti a capire con alcuni di loro che queste sono alcune delle loro passioni forti e quindi su questo si può lavorare.